Oh, dopo tutto Lance è riuscito a sconfiggere la sua Nemesi, un finale degno di uno dei suoi film. Pensavo, forse dovremmo vederci Hard Kill stasera, in suo onore. Non ci credo, stavo giusto per proportelo, ormai pensiamo le stesse cose. Ah, è raccapricciante, ok? Tu va avanti a preparare il film e una bottiglia di vino, ti raggiungo dopo, devo solo passare in un posto prima. Se abbiamo avuto di nuovo la stessa idea, cioè che dovresti comprare un costume da archeologa sexy, sappi che ho già la frusta. Grazie. 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 Grazie.